Ciao, benvenuto nel canale di AgriEuro. In questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del Rasaerba e Super Recycler EC53. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il Rasaerba e Super Recycler EC53 di Toro rappresenta un eccellente esempio di ingegneria avanzata nel campo della cura del prato. Realizzato con una scocca in alluminio pressofuso, questo Rasaerba a trazione posteriore si distingue per la sua eccezionale resistenza alla corrosione. L'alluminio, scelto per le sue qualità di durabilità e leggerezza, contribuisce a garantire una lunga vita del prodotto. Al cuore del Rasaerba pulsa un motore brushless di ultima generazione. alimentato da una batteria da 60 volt e 7.5 ampere ora, che offre una potenza sostenuta e continua. Questa tecnologia assicura un impatto ambientale minimo grazie all'assenza di emissioni. Inoltre, il sistema Ransmart implementato nel Rasaerba ottimizza l'avanzamento in base alla velocità dell'operatore, adattandosi perfettamente alle diverse andature. Per soddisfare ogni esigenza di taglio, il Rasaerba e Super Recycler EC53 è dotato di un sistema versatile che permette all'utente di scegliere tra tre diverse modalità, raccolta nel cesto, mulching attraverso il sistema Recycler, e scarico posteriore. L'altezza di taglio è regolabile in cinque diverse posizioni, offrendo un controllo personalizzato e preciso per ogni specifico bisogno di manutenzione del prato. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.